Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per ripristino della pavimentazione e rallentamenti tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Bologna. Sulla A12 per lavori, due chilometri di coda tra il Vivio per Viareggio e Versilia in direzione Genova. Un chilometro di coda tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Sulla FIPILI code per veicolo in avaria tra Ginestra Fiorentina e Scandici in direzione Firenze. Su raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.